Ciao! Io sono Evelina e c'è un bolgara. Insieme formiamo l'E.I.M.B.! E se lo chiedono la porta a chiare? E l'ho chiusa! Allora, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi proveremo insieme, visto che siamo in Inghilterra, gli inglesi cosa mangiano? Per colazione! Per colazione! Quindi oggi proveremo insieme a voi a fare e a mangiare la colazione americana! Non facciamo un video perché è veramente mattina! È veramente mattina? Guardate l'ora! Raga, io vi giuro solennemente che mi sono svegli... Non deve vedere la password! Io vi giuro che mi sono svegliata adesso, cioè in questo momento, all'1.43. Non ci credete che mi sono svegliata adesso? Bene, quindi iniziamo subito. Allora, prima di tutto facciamo le... Wabaa! Rumori strani! E poi abbiamo qui, abbiamo comprato il bacon a fettine, che proveremo a cuocere. E quindi proviamoci, abbiamo una padella, cerchiamo di non ucciderci! Sì, te lo devi incontrare! Perché mi ci hai chiesto? Allora, così! E voilà! Cambiato postazione, come si vede bene? Siamo nella postazione con il cibo. Accendiamo! Vedrete, ieri avete visto un esemplare di velina fassiera? Sì, dovete vedere. Adesso un esemplare di velina cuota. Allora, proviamoci. A parte che qui in Inghilterra, tutte le case del mondo hanno un cosino del fumo dell'allarme. Cioè, se facciamo un picchio di fumo... Perché devo... Ragazzi, venite a aerei dal... Mentre registriamo! Allora, c'è questo caso del fumo che ti fai un picchio di fumo così e lui suona fortissimo. Quindi... E se viene la fu... Cioè... I vigili del fuoco e non trovano l'allarme dovete pagare 100 euro. Mamma mia! Già ci stiamo ammazzando! Mettete like per questo perché moriremo in questo video. Like! Quindi ragazzi, c'è proprio... Vai, dammi l'olio! Oddio! Bene, tieni! Mamma mia! Mamma mia! Allora, un chiuncchio d'olio? Io spiego come lo so. Ma no, così è troppo poco! Vai, basta! Bene! Adesso, lasciamo che l'olio si riscaldi un po'. Intanto tentiamo la canzone. Nella vecchia fattoria, ia, ia, o! Cante e' stasso... E' la tua via, ia, ia, o! C'è il melina ii, ina ii, ina ii, ina ii. C'è il bojidara, 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 bojidara. Allora, facciamo le uova adesso. Allora, uno ii e poi uno lei. non è sicura? vabbè fai te perché io lo voglio d'occhio di voi apri la porta lo faccio io l'uovo? si si il puzzo è vero ho paura forse che c'è da fuori il puzzo no 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 esplode la casa piano che si schizza di prima mattina eh? proprio allora guardate faccio schizzare un po' anche voi dai sono vero che bene? adesso però devi mettere l'olio sopra no no lo lasciamo rotolare sullo sotto così sopra un po' ma dove era la spatola? si serve la spatola ah intanto parlo questa cosa della colazione americana in realtà doveva essere una sorpresa per lei perché io mi sono fatta la sveglia e volevo fare una sorpresa facendogli la colazione americana però non mi sono svegliata quindi abbiamo deciso di farla così allora il nostro uomo non decido se sei l'interno me l'hai detto aiuto aiuto abbassa il foglio dammi le foglina ok sono sempre in tuo soccorso armiamoci dico caglio che arma proprio Ive ma il cacolo lo tostiamo nella tostiera che si fa più in fronte no la mia botte era il pane no? ahhh non soffia questo coso no raga raga dove ti fiede l'uovo? guardate si è fosato qui l'uovo una bolla mamma mia basta ok ora lo tolgo dammi un piatto veloce sento il piatto che è? mi è toccato oh ma dai ma che è? ma che problemi abbiamo? poi ragazzi qua sotto nei commenti mi sali i pavoli dai dammi sto piatto tieni mettilo qua dopo lo mettiamo in un altro piatto gli ho dato una ciotola ma cosa è successo? non lo so io non me lo chiedere perché non lo so ma questa padella io sono bravo a cucinare la padella ma credetemi io sono bravo a cucinare però è vero? questa padella ha dei seri problemi dillo che faccio delle torte buonissime fai delle torte buonissime basta vento ma io non trovo un piatto di chinkmi vabbè voi intanto guardate quello che è un piatto bellissimo vai un'ora più che sto vivendo in una volta un secondo raga una setta o due feste ecco qua ho messo il becco una per uno ok intanto lei mette il pane e la pistiera e vi faccio vedere le fantastiche uova è solo che la padella vabbè ma anche io è più bello aspettiamo che si faccia la pancetta il becco e ragazzi noi ci siamo ammazzate per fortuna facendo il becco almeno questo è buonissimo il becco che bello guardare la padella no? quante visualizzazioni avrà? che problema? che problema alber veramente raga sempre quando lo metti a cuocere poi dopo si rimpicciolisce tutto si piega tutto insomma ci vediamo quando abbiamo finito? chiedite ok quando siamo like like io sono un pezzo di plastica sul becco che cavolo ci fa la plastica? allora avventure in cucina con in B parte 1 ciao Chiara non ci saranno altre parti giuro raga questo cosa ha fatto rosso santo Dio abbiamo portato se ha fatto rosso stai riprendendo di nuovo a capo di sotto se ha fatto se ha se ha fatto rosso significa che sta per sta per partire l'allarme in ogni secondo quindi ho portato fuori la pentola io giro con la pentola fuori non è morto nessuno con doglianze che è successo? non è morto nessuno con doglianze ma non sono sto perdendo il controllo continuiamo con la nostra colazione americana già 10 minuti oh ma che cos'è? vai ora le faccio cuocere da questa parte il pane ma il pane è frustato ma il pane è frustato? questo è frustato? si eh si ma ragazzi avete dei problemi con il pane? ok allora facciamo cuocere bene il background io poi prendi questa va bene allora io tolgo le carriere al tavolo c'è siamo in inghilterra non potevamo non fare un video così no? gli inglesi si sa bene mangia una colazione questo quindi noi siamo in inghilterra dobbiamo provare a fare la colazione americana ovvio eh? abbiamo già fatto una volta avevi già fatto una volta io ho capito che voglio fare la cacca evelina ma non si dicono queste cose su youtube non si dicono queste cose che ho detto chi è che non caga? bene ragazzi allora ci siamo sedute a tavola finalmente allora capella ok uovo allora questo è il risultato un po' bruciazione bacon eh perché l'ho cotto nello stesso olio che ho fatto l'uovo quindi bacon uovo e toast bacon, uovo e toast allora facciamo l'assaggio che facciamo? assaggiamo con l'uovo oppure e lascio chiudiamo perché stavo vedendo un video allora chiudiamo dai allora pane e ti aspetta bravo uovo mh buono bacon uovo 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 buono uovo muovo uovo po' muovo po' do andò speriamo che il video vi sia piaciuto se è così allora parliamo da persone parliamo da persone serie guardate negli occhi parlate un attimo parliamo da persone serie qui sotto c'è un pulsante molto importante per noi c'è un pulsante così voi dovete solo premere col pulsante fare così non costa niente raga vi giuro è gratuito e se lo fate vi sentirete meglio poi da quell'altra parte c'è un altro pulsante rettangolare rosso voi dovete premere quel pulsante sul tic è gratuito non costa niente vi prego fatelo se no se non lo cliccate mi sentirete male non avete spiega per 30 anni quindi non perdetevi il prossimo video che ci sarà domani e c'è un link in descrizione dei nostri social iscrivetevi